Bene, buongiorno a tutti, benvenuti, io sono Armando Pisani, insegno matematica e fisica al liceo scientifico Michelangelo Bonarotti di Monfalcone, in provincia di Gorizia. In questa raccolta, in questa playlist, trovate le lezioni del mio corso di fisica tenuto nell'anno scolastico 2019-2020. Le lezioni erano rivolte ai ragazzi del quarto e del quinto anno, quindi trovate dal ripasso di dinamica, poi termodinamica, onde, elettromagnetismo e l'attività speciale. Le lezioni sono state registrate utilizzando software diversi, il principale è stato software OpenAIA, sviluppato dal professore Enrico Annessa al Science Dissemination Unit del Centro di Fisica Teorica di Trieste, che ringrazio sentitamente. Ho usato anche software OBS e per disegnare e scrivere appunti sullo schermo ho usato il software Notability che ho utilizzato sul mio iPad. Spero che le lezioni vi siano utili, se avete commenti o richieste, scrivete un commento e richiede informazioni e vi invito a scrivere il canale. Vi ringrazio dell'attenzione e buono studio a rivederci. Grazie a tutti!